Celebriamo, festeggiamo un compleanno, un compleanno che si è consumato qualche giorno fa, è il compleanno di Don Luigi Ciotti. Io ho le mani gelate Don Luigi, grazie di essere venuto. Sono fortemente emozionata e quindi mi dia una mano anche lei. Intanto gli diciamo auguri, noi, il nostro pubblico, Fabio Bolzetta, tutti quanti. Posso partire un po' da lontano. Da quando lei piccinino piccinino con papà, che aveva bisogno di lavorare, la sua famiglia, si trasferisce dalle Dolomiti, dalle sue montagne, da Pieve di Cadore e si porta a Torino. Qual è stata la prima immagine che ha di quella città? Perché forse partendo da quello si capisce perché lei è diventato, lei è così. Beh, ho un'immagine di una città che mi ha colto. Io esprimo la gratitudine e non mi stancherò mai di ringraziare Dio, del dono di amore di mio padre e di mia madre e del privilegio di essere nato nelle Dolomiti a Pieve di Cadore. Un privilegio. Ma la mancanza di lavoro portò mio padre a girovagare per l'Italia, la storia di tanti italiani e di tanti migranti ancora oggi. L'impatto a Torino è stato un impatto difficile perché mio padre aveva lavoro ma non aveva la casa. Ma l'impresa di mio padre, disse mio padre, signor Ciotti, se vuole lei, sua moglie, i suoi figli, può usare benissimo dentro il cantiere che era il Politecnico di Torino in costruzione nella zona bene, si diceva, della città di Torino e la baracca, la baracca a fianco quella degli operai. Come era di la mia era? Per me è stata la più bella casa della mia vita, nel senso che da bambino non ti rendi conto delle fatiche, delle preoccupazioni, delle sofferenze, anche a volte delle umiliazioni che i tuoi genitori magari hanno ricevuto e ricevono perché tu vivi nella baracca. La baracca era in muratura ma sono quelle baracche da cantiere con i tetti provvisori e la festa in casa era quando si andava a comprare la carta da zucchero, quella blu di una volta in cui si andava a comprare gli etti di zucchero e con nostra mandra noi cambiavamo il soffitto con delle stelle di legno, foderavamo con questa carta ogni cinque, sei mesi, era una festa, era una festa, una festa. E quindi per me è stato il primo grande impatto nella città, coccolato dagli operai del cantiere, tanto è vero che quando farò la prima comunione della Cresima il padrino sarà il gruista, Paolo, che era sempre lassù, su in alto, e quindi ti sentivi coccolato, sentivi l'affetto, ma quando tu uscivi dallo steccato del cantiere trovavi anche tanti, tanti, che solo per il fatto che vivevi in una costruzione di estrema precarietà eri già etichettato e giudicato. A scuola tant'è vero che lei a un certo punto, da piccolino, lei non aveva il grembiule, lo possiamo raccontare, almeno io ho letto questo di lei, e insomma non ve la passavate benissimo. Voglio usare un'espressione. Devo dire questo per correttezza, sempre con grande rispetto, senza mai generalizzare, perché poi ho trovato anche tanta gente che ha capito, è stata vicino, non si è fermato le apparenze. Prima elementare, momento di fatica ma anche di speranza di tutti i bambini. Mia madre andò a scuola a spiegare alla maestra che non mi poteva mandare, almeno per il primo mese, con quella che era la divisa della scuola, e in quel territorio dove ci si poteva permettere di avere un grembiule e un fiocco di quelli che ti risparmio, anche proprio di più di valore, perché è un quartiere in cui molti se lo potevano permettere. Mia madre con molta umiltà, con molta correttezza, credo proprio con tanta fatica, andare a dire alla maestra che non posso andare a mio figlio a scuola con il grembiule e con il fiocco. Almeno per un mese, perché abbiamo dovuto comprare il grembiule e il fiocco per le sorelle più grandi di me che andavano nella stessa scuola e non ce l'aveva fatta. Mancava a questi, non era un atto di presunzione. La maestra diceva, va bene signora, ma mi raccomando, il mese prossimo io mi sarei aspettato un atto di attenzione, non si preoccupi, gli diamo una mano noi, poi il mese prossimo ci restituisca qualunque cosa. Ma io ero l'unico in tutta la scuola, senza il grembiule e senza il fiocco. E' chiaro che per i bambini come mai, dove abiti, come mai non c'è il grembiule, come mai non c'è il fiocco. E io raccontavo delle bugie, dicevo che abitavo in un palazzo, perché mi vergognavo. Avevo percepito da piccolo che c'era già un giudizio. Peccato che il mio compagno, piccolo come me, in prima elementare, mi dice, ma abito io in quel palazzo. E tu ci sei. Ci siamo mai visti, mi spiace per te, non ci siamo mai visti. Ma perché le bugie hanno le gambe molto molto corte. Ma il vero problema nasce dopo 20 giorni, perché la maestra è arrivata tesa, nervosa. Chissà quanta sofferenza viveva lei per essere in quel momento così nervosa, così tesa. Probabilmente in famiglia aveva trovato discussioni con i figli, con il marito, che ne so. Lei entra in classe, i miei compagni di disturbo non volessi metterà a gridare verso di me, che mi aveva messo nel primo banco. Mi sentivo già in difficoltà, già giudicato, i compagni ridono, scherzano e lei punta a me, che c'entravo nulla. Ma proprio nulla. Io devo avergli fatto un gesto con le mani che mi sono spontanei per dire, ma oh, che cosa vuoi? Da me è un bambino che cerca di esprimere delle cose, perché abbiamo bisogno tutti che qualcuno ci ascolti, che ci intercetti e quando io gli faccio questo gesto, lei comincia a gridare, certamente un momento di sofferenza sua. Come si vede che è un prete? Solo un prete forse potrebbe dare una giustificazione. No, adesso che sono adulto io so quante volte tu devi andare in pubblico, devi fare delle cose, mentre la tua testa e il tuo cuore magari sono da un'altra parte, perché c'è una preoccupazione, c'è una tensione, c'è una persona malata, c'è una sofferenza. Poi mentre lei viveva questo momento, i bambini continuano a ridere, a scherzare e lei reagisce di nuovo una seconda volta, prendendola sempre con me, che gli avevo fatto questo gesto per dire, ma che cosa vuoi? E grida a me, ma che cosa vuoi tu, Montanaro? A me. Che io sono orgoglioso di essere nato sulle montagne. E lei che cosa fa però? Ecco, allora che succede? Che io improvvisamente cerco di comunicare con lei, i bambini, i bambini ridono, scherzano, mi sento umiliato e quindi senti uno scatto di dignità, difendere la tua terra, la tua famiglia. C'erano quei vecchi banchi di una volta, quei calamai incastrati di inchiostro e io ho fatto una cosa che non dovevo fare, sia ben chiaro, sia ben chiaro. Prendo il calamai, lo tiro fuori e glielo tiro. Non mi rispondeva. Disgrazia vuole, veramente, e mi dispiace, che la colpisco in centro. Tu immagini il vestito della maestra. E quindi il puttiferio in quella classe, espulso, accompagnato subito a casa, chiamavano i bidelli. Io non ho mai più incontrato quel bidello, ma mi ricordo quella mano che me la stringeva, io piccolo mi portavo a casa. Ecco, l'affetto. Lui aveva capito. Mia madre mi diede una di quelle lezioni che ho mai dimenticato, ma devo anche dire di cui li sono sempre riconoscente, perché non si deve rispondere con un gesto di violenza a una violenza fatta anche solo di parole. Certo, oggi lo capisco, me ne rendo conto, vedo i miei momenti di fatica, ma eri un bambino che non è stato accolto in quel momento della sua fatica e un giudizio che mi era pesato fortemente. Mia madre mi diede una lezione severa. Anche se anni dopo mi disse, Luigi, a me piangeva il cuore darti una punizione così dura, perché sapevo che tu avevi difeso la nostra dignità, le nostre radici, la nostra storia, le nostre fatiche. Però tu non dovevi in ogni caso fare così. Io di questo sono riconoscenti di mia madre. Ma il vero problema, succede alle 12 e 30, perché i bambini escono da scuola. Lo sai, mamma, cosa è successo oggi a scuola? Ma dimmi, Cicci, oggi a scuola è successo che il nostro compagno ha tirato il calamaio alla maestra. Ah, povera maestra. Nessuno si è posto il perché. Perché l'avesse fatto. Il perché. Lo sai, mamma? Di nuovo. Dimmi, Cicci, che il nostro compagno ha sporcato il vestito della maestra. L'ha preso in piena con l'inchiostro. Ah, povero vestito della maestra. Nessuno si è chiesto del compagno. Come si chiama il tuo compagno? Ciotti. Guai. Guai se ti vedo con quel compagno. Perché io sono diventato, non per tutti, perché c'è anche dei bravi genitori che poi scendono in profondità, un po' il compagno cattivo, il bambino ribelle, fuori da tutte le regole. In realtà era uno scatto di una fatica di cui mi dispiace e voglio sottolineare la grandezza di mia madre che non ha fatto sconti anche se nel suo cuore c'era un pianto. Io le avevo detto Don Luigi fuori, ci siamo visti cinque minuti che oggi l'avrei lasciata parlare. Questi sono quei giorni bellissimi che il nostro lavoro ci regala in cui basta soltanto accendere una fiamma e poi dopo tutto il resto viene da sé. Io però la voglio, e avevo necessità che a casa sapessero questa storia che lei finalmente ha tirato fuori perché così da questi episodi si capisce chi è Don Ciotti, che cosa è diventato, che cos'è per l'Italia e non soltanto per l'Italia. A proposito di Italia, c'è un'Italia che a lei deve molto, è un'Italia della gente per bene, della gente che fa una fatica enorme, è un'Italia che ci racconta la nostra Antonella Ventre. Don Luigi, siamo a Verona, segua con noi questo intervento di Antonella. Antonella è una grande responsabilità stamattina. Siamo naturalmente per questa finestra aperta sulla vita di Don Luigi Ciotti, perché Don Luigi Ciotti c'è un momento in cui quel montanaro che viene additato come cattivo, una persona che non va frequentata perché sennò porta sulla cattiva strada i bambini, sente e si lascia stupire da Dio, che evidentemente aveva per lei dei disegni molto diversi. Quando è che si è fatto prete? Quando è che poi Don Ciotti capisce che quell'essersi sentito scarto per una volta non doveva succedere a meno per quello che potesse fare con gli altri? Beh, io devo dire che pur nelle fatiche della mia infanzia poi troverò nella parrocchia un punto di grande accoglienza, di grande riferimento. Nella parrocchia la prima, quella dove c'era la baracca, il cantiere e poi mi trasferirò, finalmente la mia famiglia potrà prendere un alloggio in affitto nella parrocchia dove sono cresciuto nell'azione cattolica. Lì ho trovato dei punti di riferimento, ma il grande punto che mi ha messo in subbuglio la mia vita è stato, mentre andavo a scuola per prendere un diploma in telefonia e telegrafia, un signore con tre capotti addosso, su una panchina, sempre solo, che leggeva libri e con quelle matite blu e rosse le sottolineava, ma era sempre solo, solo, solo. Un giorno mi sono chiesto come mai, perché noi rischiamo anche dentro le nostre realtà di fare tanti convegni, dibattiti, incontri, prendiamo il cappello, lo spezziamo in cento parti, ma lui era lì, allora mi sono chiesto come mai era solo, sono sceso, gli ho chiesto se aveva bisogno di qualcosa, non mi ha risposto per dodici giorni, io per dodici giorni ho continuato a fargli la stessa domanda, perché avevi, cogli, cogli qualche cosa. Lei c'aveva meno di vent'anni. Sì, io ero un ragazzino, ancora avevo 17 anni, ma cogli, cogli che era trincerato su se stesso, io devo molto questo signore, devo molto nel cambiamento nella mia vita, ma devo anche questa chiamata così misteriosa, così profonda, così rivoluzionaria che Dio fa. Questo era un medico, un medico che è una tragedia nella sua vita, l'ha portato su una panchina, perché la tempesta può arrivare improvvisamente nella vita di tutti, ti scoinvolge, creando anche a volte degli squilibri. Ma sarà lui a indicarmi in quegli anni il bar di fronte dove entravano e uscivano dei ragazzi, non si parlava di droga in Italia, ma lui un giorno mi disse, guarda io sono stanco, sono vecchio, sono malato, dovresti fare qualcosa per quei ragazzi, perché prendono dei farmaci, ci bevono dei superalcolici sopra, fanno la bomba, si drogano, non era un'espressione che non veniva usata nel paese, una mattina andando a scuola la panchina era vuota, il mio amico se n'era andato, aveva trasloccato da qua giù a lassù, e ho sentito che quelle parole, quella sollecitazione, quell'invito, non erano le solite parole, non poteva essere il solito incontro nella vita, e ho cominciato da solo, coinvolgendo poi gli altri, tra lì dopo nasce il gruppo Abele, che quest'anno sono 50 anni, la strada, i poveri, gli ultimi, certamente i cambiamenti e le trasformazioni impongono anche letture nuove, ma non dimentichiamoci che i bisogni profondi della persona sono sempre uguali, che hanno bisogno della tua attenzione, della tua presenza, e in questo percorso, con quella sollecitazione, puoi mettere insieme delle persone, ho sentito prepotente dentro di me, di andare a provare, andare a provare, perché combinazione, improvvisamente a Torino veniva aperto il primo corso per vocazioni adulte, l'avevano chiamato così, era un'opportunità, e quindi ho detto, ma, vediamo se... Cioè lei non era convintissimo che poi quella sarebbe stata la sua strada? No, sono andato a verificare, a verificare, e lì è stato per me certamente dura, l'impatto, la non mia preparazione avevo fatto di studi molto semplici, molto tecnici, era il primo corso sperimentale, avevo già questa realtà all'esterno, e quindi per me era un distacco difficilissimo, ma il Padre Eterno ha dato tanto di quelle pedate per andare avanti, e su quella strada arriverà improvvisamente un grande vescovo a Torino, Padre Michele Pellegrino. Padre Michele Pellegrino poi mi accolse, capì cosa stavo facendo, mi sostenne, mi prese per mano, devo dire, mi prese fisicamente per mano, e le diede una parrocchia speciale, incoraggiandomi. Anni dopo, sarò consacrato sacerdote, l'11 novembre del 1972, in una chiesa che si era riempita del popolo della strada, dei ragazzi del carcere minorile, le ragazze del buon pastore, riformatorio, il popolo della strada, quella era la chiesa che si riempì per la mia ordinazione, e Padre Michele Pellegrino, con una croce semplicissima di legno, guardò tutti questi ragazzi che erano in quella chiesa e disse, io so cosa state pensando, che adesso prendo Don Luigi e lo mando in una parrocchia, come si usa a fare. Lui è cresciuto con voi, è nato con voi, vi ha accompagnato in questi anni, io ve lo lascio, ma anche a lui ha fede una parrocchia, la sua parrocchia è solo la strada. Ma attenzione, Padre Pellegrino, mi ha mandato non a insegnare a chi c'è sulla strada, ma a riconoscere il volto di Dio in chi si sbatte sulle strade. Mi ha fatto piacere che quando ho incontrato la prima volta Papa Francesco, a un certo punto parlevamo della chiesa, lui mi ha chiesto, ma chi è che... lui sapeva chi è che mi aveva ordinato sacerdote, ma me l'ha chiesto. E quando gli ho detto Padre Michele Pellegrino, si è illuminato, si è illuminato. E poi ho scoperto perché. Perché... Da ciò ti si... La fermo, la fermo. Ce ne andiamo in pubblicità. E me lo dice dopo. Pubblicità. Bentornati alla nostra festa di compleanno. Noi festegliamo con qualche giorno di ritardo i 70 anni di Don Luigi Ciotti ed eravamo rimasti ad un incontro, un incontro speciale tra Don Ciotti e Papa Francesco che gli chiede chi l'avesse ordinata sacerdote, chi le avesse dato come parrocchia la strada. Papa Francesco si illumina, perché? Perché poi abbiamo scoperto, abbiamo raccontato che quando i suoi nonni si sono trovati in un momento di grave difficoltà ad aiutarli è stato un giovane prete di nome Michele Pellegrino. E quindi... Pocchi giorni fa... Questa credo che sia la prima volta che venga detta una cosa del genere. Pocchi giorni fa ci siamo incontrati in tanti... in via Cibrario 19 a Torino la casa dove è nato il cardinale Carlo Maria Martini è stata deposta una lapide c'era la sorella, la nipote abbiamo partecipato in tanti e quindi ho pensato in quel momento che per me ha segnato molto la vita Michele Pellegrino dopo il testimone è passato a Carlo Maria Martini Gesuita che è stato il grande punto di riferimento lo ricorda sempre Papa Bergoglio Papa Francesco è la gioia di aver incontrato questo Papa e ho pensato a questo filo che ha legato queste storie che io piccolo piccolo ma proprio piccolo piccolo posso dire che ho attento mi sono arricchito di questi rapporti ma anche di questo affetto è vero anche il contrario lei quando la gente la incontra Don Luigi lei regala qualcosa tanto è vero che lei è amico anche dei ricconi lei è stato amico di Gianni Agnelli ha celebrato lei i funerali del figliolo lei incontra tante persone perché è uno di quelli a cui piace costruire i ponti a questo proposito noi abbiamo una sorpresa per lei perché Fabio come al solito è andato è andato come dire a chiedere qualche parere in giro diciamo così allora una sorpresa che viene da Sisi dove settimana scorsa io personalmente ho seguito il cortile di Francesco una settimana di incontri tra personalità di primissimo piano dell'economia della politica della religione della società civile in cui si incontravano di fatto sotto il manto della Santo di Assisi credenti e non credenti allora Don Luigi qualche indizio è di Sesto San Giovanni più o meno avete la stessa età ma è un pelino pelino più giovane è una persona però che è sempre stata vicino agli ultimi ebbene quando ha saputo di questo compleanno che saresti stato con noi ci ha voluto fare ha voluto fare un augurio tutto speciale lui è il fondatore di Emergency Gino Strada Luigi è un mio fraterno amico gli faccio tanti auguri per i suoi 70 anni gli auguro altri 70 così vitale così combattente mi piace molto tra noi ci è sempre stata una grandissima sintonia così sedente di dirgli oggi nel non mollare e non andare avanti nonostante tutto dico che ha ragione a non mollare ha ragione che si può si può cambiare questo mondo che in fondo non è così difficile come molti dicono di cambiare questo mondo basta che ci siano tanti Luigi che fanno il loro pezzettino grazie Luigi grazie a lei tanti fanno questo ragionamento a partire dai giovani lei ha sto pallino da sempre che le nuove generazioni devono essere educate a qualcosa di altro c'è tanta sporcizia in giro ma non possiamo limitarci a condannarla a prenderne le distanze noi dobbiamo fare qualcosa da quando lei ha deciso con un gruppo di amici e ha messo in piedi il gruppo Abele poi è nata libera perché è fermamente convinto che davvero partendo da lì si cambia questo mondo vorrei fare una precisazione che mi sembra molto importante quando lei ha detto i miei amici potenti è la porta del mio ufficio e della mia vita aperta a tutti a tutti io ho scelto di stare dalla parte di chi fa più fatica e a fare fatica non c'è solo il mondo della povertà materiale e culturale ma ci sono tante persone che hanno tutte e sono disperate disperate dentro vivono una onoressia esistenziale di senso di significato oppure hanno tanto benessere e poi sono famiglie disgregate situazioni di figli disperate in questo senso devo dire che nel cammino della mia vita le persone che ho incontrato che hanno bussato alla porta sono di ambiti di contesti diversi assolutamente questo voglio dirlo io ho scelto di stare dalla parte di chi fa fatica questo vi pare il grande segno nella chiarezza e anche nella chiedere che ognuno che ha di più si assuma di più la sua parte di responsabilità detto questo io sono innamorato di Dio e innamorato dei giovani dei giovani i giovani ci chiedono a noi adulti coerenza e credibilità e quando trovano dei punti di riferimento veri e credibili parole di carne parole di vita si infiammano si infiammano i nostri ragazzi non è vero non è vero come qualcuno dice ma sì si trascinano disinteressati indifferenti certo molti sono orfani di territorio perché mancano ci sono dei vuoti sociali o noi perdiamo per strada pensate un giovane su tre nei primi cinque anni delle scuole superiori siamo agli ultimi posti per la dispersione scolastica nonostante i miglioramenti che negli ultimi anni ci sono stati in questa direzione abbiamo milioni di giovani che non studiano e non lavorano più allora è un problema sul quale dobbiamo porci delle domande molto concrete ma dico questo per dire che quando i nostri ragazzi trovano dei punti di riferimento sono meravigliosi ma sono meravigliosi noi dobbiamo scommetterci sui nostri ragazzi e soprattutto dobbiamo evitare questo continuo dire c'è il nostro futuro hanno bisogno che creiamo le condizioni in questo presente che vuol dire casa vuol dire lavoro vuol dire sostegno alle famiglie vuol dire le politiche sociali vuol dire i servizi perché la speranza vuol dire offrire opportunità alla gente qua giù certo che c'è anche un altro tipo di speranza ma il Padre Eterno ci dice di darci una mossa per creare quelle condizioni di dignità e di libertà per tutti oggi il mio pensiero quindi va con gratitudine a quanti fortemente si impegnano non a rattoppare la situazione ma a costruire un'agenda politica chiara seria che scommetta sui giovani che scommetta sui giovani e che non li perda per strada come sta succedendo troppe volte ecco allora che Libera nasce con un noi è un noi tanto è vero che il gruppo Abele si chiama gruppo da gruppo Abele è nato un coordinamento tanti anni fa delle comunità di accoglienza perché ho detto mettiamoci insieme diventa una proposta culturale sociale politica più forte per chiedere ciò che è giusto a chi ha i margini terzo quando esplose il problema dell'AIDS nasce la lega italiana lotta all'AIDS mettere insieme forze e energie io l'ho accompagnata con degli amici nei primi tempi passando poi il testimone due mesi prima della strage di Capacci mi sono trovato a Gorizia con Giovanni Falcone il tema era la droga un corso di formazione per la polizia di stato perché tutti hanno bisogno di formazione e di conoscenza lui come magistrato che era distaccato al ministero della giustizia io un po' il contributo sulle accoglienze la prevenzione i percorsi educativi l'attenzione alle famiglie due mesi dopo il giorno della strage di Capacci ero in Sicilia a tenere un corso di formazione per gli insegnanti delle scuole su cosa portare nella scuola sul tema delle dipendenze il 19 luglio 57 giorni dopo Capacci ero a Palermo sono piccoli segni ma da quei segni uno si dice la meraviglia di quella terra la meraviglia di quei gruppi la meraviglia di quelle persone che hanno sempre lottato mettendo anche la loro vita ieri come oggi in gioco nel contrasto alle mafie ma io ho detto no no non possiamo lasciarli soli è un problema che riguarda tutta l'Italia e l'abbiamo visto dobbiamo fare qualche cosa tutti insieme e nasce libera nasce un noi ancora una volta perché non è opera di navigatori solitari e libera sono 1600 associazioni dall'azione cattolica alla Gesci alla Cingei alle Gambiente all'Arci all'Auser alla Fucci alla Chiesa Valdese è un'Italia che si è messa insieme io credo che è noi che vince è noi che vince ci vuole più umiltà più voglia di mettersi insieme ognuno con la propria identità evidentemente che non deve venire meno ma ci sarà pure un obiettivo che è un obiettivo di ricerca di giustizia che ha bisogno di percorsi di verità in cui facciamo meno parole per piacere più fatti perché da secoli che parliamo di mafie 400 anni che parliamo di Camorra 150 anni che parliamo di Cosa Nostra 120 anni che parliamo di Andrangheta non si parla che nella provincia di Foggia negli ultimi anni 248 omicidi di solo 40 si conosce qualcosa abbiamo bisogno quindi di una rivolta di un risveglio delle nostre coscienze per rassumerci di più la nostra parte di responsabilità e di sostenere di chiedere le politiche giuste e sostenere il lavoro di quei magistrati e delle forze di pulizia che a volte fanno anche miracoli con gli strumenti che hanno a disposizione Luigi quanti le dicono ancora adesso forse un po' di meno che lei fa troppo poco il prete e tanto il politico tanto il formatore tanto altro lei che cosa risponde ancora adesso dopo 70 anni e 50 di sacerdote e devo anche dire che c'è molta politica nel Vangelo quando denuncia i soprusi le violenze le ipoclesie ma c'è anche molto Vangelo nella Costituzione laddove stabilisce l'uguale dignità delle persone e il loro diritto a vivere in pace e giustizia io vivo il mio ministero lo porto avanti lo porto avanti nei contesti più difficili a volte con la stessa forza con la stessa intensità e quindi nella coscienza dei miei limiti delle mie fatiche dei miei errori dei miei peccati di cui non mi stancherò mai di chiedere perdono a tanta gente e a Dio ma io porto avanti il mio ministero sono contento di poterlo fare e di poterlo fare in contesti in realtà difficili anche quanto prega lei Don Ciotti? Ma io non c'è giorno che apro e chiudo la mia giornata che la presenza dei sacramenti dell'eucaristia ha lavato vivere in realtà in contesti diversi sento prepotente il bisogno di telefonare a Dio non si paga manca la bolletta perché c'è bisogno di attingere da quella parola c'è bisogno di silenzio c'è bisogno di rivisitare nel corso della tua giornata quei volti quelle storie quelle persone perché anche lì ci sono frammenti di Dio frammenti di Dio di chi nella fatica viene a bussare e penso di incontrarlo anche al dormitorio del gruppo Abele all'unità di strada che ogni notte esce e che l'anno scorso ha incontrato 1700 ragazze sulle strade di Torino penso di incontrarlo nelle comunità che accogliamo le mamme che subiscono violenza con i loro bambini penso di incontrarlo nei testimoni di giustizia che hanno messo a rischio la loro vita ma io l'ho incontrato nelle centinaia 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 i familiari delle vittime innocenti della violenza mafiosa è libero e riuscito a metterli insieme la gran parte per dare loro una dignità un'attenzione per fare in modo che la memoria non sia retorica a celebrazione in questo paese io credo di incontrare Dio non solo nel momento in cui spezzo quel pane nell'eucaristia ma di incontrarlo anche in quella signone che sono quelle lenzuola del nostro dormitorio che ogni notte avvolgono delle persone disperate perché lì c'è Dio ci sono persone disperate che questa saldatura tra terra e cielo che è bellissima sono riuscita a vederle da Luigi lei abbiamo dovuto aspettare un po' tanto perché queste parole cominciassero a diventare più frequenti e in assoluto è servito un papa come Francesco che di questa esclusione sta facendo è una parola che non smette di proclamare ma neanche quando va davanti alle Nazioni Unite davanti ai potenti della terra o perché no al congresso e non perché si riempia la bocca di questa parola ma perché evidentemente per lui è un'urgenza 50 anni di gruppo Abele poi libera che cosa dicono ma devo dire che papa Francesco beh non dimentichiamo benedetto decimo sesto la profezia il coraggio l'umiltà che ci ha consegnato poi papa Francesco papa Francesco non parla del Vangelo papa Francesco non parla del Vangelo lo vive lo testimonia e invita ciascuno di noi a fare altrettanto quelle parole che sono scritte sulla carta devono essere vita e quindi è l'invito a riempire la vita di vita di senso di significato di tradurre quella parola e lui lo fa con dei segni lo fa con dei gesti lo fa nel modo più semplice e lui parla soprattutto lì parla anche lì in alto ma parla soprattutto la gente e lo fa con un linguaggio che sia accessibile a tutti e arrivare al palazzo del congresso americano e dire signori la pena di morte la pena di morte riduciamo le armi le armi sono parole chiare categoriche la Chiesa ha il dovere perché il Vangelo è la parola di Dio è un invito e lui invita ciascuno di noi a vivere questa intensità e questa coerenza nei nostri cammini queste storie ci interpellono ci pongono delle domande noi siamo chiamati e chiede alla politica che faccia la propria parte ma c'è una parte che ci chiama in gioco ciascuno di noi allora la prima grande riforma da fare in Italia che io mi permetto di gridare con forza sempre è un'autoriforma è la riforma delle nostre coscienze è il risveglio delle nostre coscienze certamente dobbiamo chiedere a chi di dovere che faccia la propria parte sostenendo quando si fanno le cose positive e chiedendo conto quando si fanno le cose che non vanno bene ma dall'altra parte per piacere il risveglio delle nostre coscienze c'è troppa indifferenza c'è troppa delega e Papa Francesco ci invita a metterci in gioco a fare la nostra parte ha detto delle parole stupende di abbattere i muri materiali ma anche quelli culturali a volte le nostre esistenze ha parlato in modo chiaro contro la globalizzazione dell'indifferenza ci invita a saldare veramente la terra con il cielo dicendo con chiarezza di una chiesa che deve avere uno sguardo verso il cielo senza distrarsi dalle responsabilità che abbiamo verso la terra c'è qualcuno che ha detto che è comunista anche a lui allora siamo in buona compagnia in questo senso ma attenzione Evangelo questa è la parola di Dio e noi siamo piccoli piccoli rispetto a questa parola di Dio devo dire che un segno che mi ha fatto piacere di Papa Francesco è che quando è andato a Redi Puglia un anno fa a novembre a gridare la pace a denunciare la terza guerra mondiale tra lo stupore di molti a denunciare quei conflitti più noti e meno noti con gli amici di Assisi ha scelto di distribuire 300 lampade della pace ma ha scelto l'olio di Libera l'olio proveniente dai beni confiscati i grandi boss mafiosi dove si sono liberate quelle terre ma soprattutto si sono liberate delle persone quelle cooperative che non sono di Libera Libera le promuove qualcuno dice Libera l'holding ha messo insieme le aziende non è vero Libera le promuove le sostiene le fa partire si indebita per fare tutto questo e poi camminano per la loro strada come deve essere Libera ha voluto quella legge raccogliendo nel 96 un milione di firme che da beni esclusivi in mani mafiosi oggi beni condivisi e ci sono oltre 500 associazioni in Italia che hanno potuto far tutto questo c'è un progetto meraviglioso con la conferenza episcopale italiana col progetto Policoro che coinvolge decine di diocesi e centinaia di realtà nei vari contesti Libera ha solo sei beni delle sue 1600 associazioni che gestisci direttamente e qui a Roma la sede nazionale era la casa di appuntamenti tra Piazza Venezia e il Quirinale prostituzione d'alto bordo ma penso la sofferenza di quelle donne le fatiche delle persone penso tutto un mondo che oggi ci fa ancora una volta pensare ecco sei beni ma c'è disinformazione c'è chi cavalca tutto questo oggi la legge per la quale noi abbiamo raccolto milioni di firme è da due anni che c'è bisogno di alcune riforme necessarie perché bisogna restituire alla collettività dove è possibile tutti questi patrimoni che i mafiosi e diciamo anche i corrotti hanno realizzato con forme di violenza e spesso anche di sangue se intuisco quello che Fabio ha da proporci forse forse credo che sia il caso di parole e immagini con le quali vi riporto anzitutto le immagini però ad un frammento perché l'abbiamo un pochino vista è giusto ricordare che Papa Francesco insieme a Luigi Ciotti per l'appunto ha presieduto la veglia di preghiera per le vittime innocenti delle mafie e questo è avvenuto il 21 marzo scorso e questo è il frammento che vorrei farvi vedere proprio dalla nostra postazione di come si è camminati insieme questo è da questa però dal computer vi invito anche la regia che adesso ci aiuta è un mano nella mano questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo perché dà tenerezza ma anche fermezza rispetto alle parole che sono state proprio dette torniamo ad oggi e ai segni perché Luigi è un problema anche di coscienza allora guardiamo il futuro delle nuove generazioni che cosa sta avvenendo in queste ore il presidente della Repubblica Mattarella ieri ha fatto una scelta precisa ha inaugurato l'anno scolastico non al Quirinale come veniva fatto sempre ma l'ha fatto in una scuola c'è andato lui è andato a Napoli in una scuola di periferia all'istituto professionale Ponticelli guardate con noi perché questo ha detto e già era un segno l'essere uscito e andare proprio lì ragazzi andate a scuola e la camorra sarà sconfitta ha detto Mattarella a Napoli per l'appunto inaugurando l'anno scolastico ma poi metto insieme anche quest'altra notizia e da Napoli invece andiamo a Reggio Calabria un bambino di 11 anni che racconta i segreti dei clan allora il suo padre è stato arrestato la madre si è pentita e lo ha fatto per lui e per i suoi figli per l'appunto e anche lui ha iniziato a parlare di tutto quello che ha visto tutto quello che ha visto nonostante la sua età lui ha detto l'organigramma preciso della cosca ha detto mio padre era il braccio destro ha parlato della droga in casa dell'arsenale in cucina e ha 11 anni allora volevo chiedere a Don Luigi che di storie così penso ne abbia visto e di bambini così conosciuti si parla di pentiti ma in realtà poi sono persone e spesso bambini che si trovano in mezzo a tutto questo ecco storie come quella che è avvenuta a Gioia Tauro a Reggio Calabria quanto male fanno e quanto bene dall'altro invece devo dire che le grandi protagoniste di queste storie sono le donne sono le mamme di questi bambini sono tante le donne che per amore per i loro figli stanno dicendo basta e stanno chiedendo assolutamente aiuto molte non sono né collaboratrici né testimoni ma chiedono una mano per lasciare la loro terra perché non vogliono che i loro figli crescono in quella cultura noi ne stiamo aiutando tante ne stiamo nascondendo e abbiamo chiesto alla politica di trovare un meccanismo legislativo nuovo per aprire una terza strada perché molte non sono in grado di poter collaborare a cosa pensa lei ecco abbiamo trovato consenso bisogna però accelerare i tempi perché ci sono già e lo dico qui e lo affermo pubblicamente per la prima volta decine di mamme che hanno chiesto una mano le stiamo nascondendo ma non è possibile perché poi i bambini devono andare a scuola e hanno se non viene riconosciuto un cambiamento di identità nel senso di identità anagrafico e allora stiamo facendo miracoli grazie alla collaborazione dei presideni nelle scuole di alcuni sindaci chiediamo un sistema legislativo per aprire una strada perché questi bambini queste donne che vogliono rompere sono le donne le grandi protagoniste sono mamme che si ribellano segno anche del grande lavoro ecco l'importanza della scuola perché lotta alla mafia vuol dire lavoro e scuola innanzitutto innanzitutto poi c'è tutto il resto evidentemente che nessuno di noi vuole dimenticare il 17 ottobre in tutta Italia in tutta Italia nei vari luoghi la nostra campagna miseria ladra per il reddito di dignità che l'Europa chiede da anni non dei tamponi come vengono fatte nelle nostre situazioni ma un grande progetto per dare dignità alle persone rientra in questa direzione perché bisogna un problema di libertà e di dignità per tutti sotto le varie forme e Mattarella il nostro presidente che porta delle ferite profonde dentro perché tra le sue braccia è morto suo fratello in quella epifania di tanti anni fa che bello sentire queste parole dicendo la scuola è vostra ai ragazzi io penso l'altro giorno che sono stato per l'anno scolastico a Palermo in quella periferia la marea di questi ragazzi che ti guardano che sperano abbiamo una responsabilità tutti il 17 in tutta Italia vi prego troviamo dei modi dei segni delle concretezze per chiedere per chiedere che la politica faccia uno scatto non dimenticando le cose positive che già vengono fatte sapendo sempre distingue per non confondere ma un reddito di dignità che tutta Europa ce l'ha già meno le Grecia d'Italia è bene nessuno faccia doppi giochi di sopra perché vuol dire dare più libertà alle persone ecco allora e poi queste mamme la meraviglia allora da questa sede chiediamo la politica un scatto c'è una terza via da aprire e io vedo questi bambini che poi hanno respirato in quei contesti in quei territori queste cose questi bambini che cominciano anche loro a dire io ho percepito questo perché poi vanno a scuola perché poi hanno letto io penso a Lea Garofalo no? e a sua figlia Denise io la incontrai per la prima volta la signora Lea a Firenze dopo un incontro pubblico ricordiamo una vicenda orripilante drammatica sulla quale faremo tra l'altro chiarezza tra un po' perché poi Don Luigi io non posso non chiedere di un'altra donna si chiama Verita Atria mi dia il tempo di lanciare la pubblicità perché poi dopo noi ritorniamo alle sue parole alla nostra maniera con dei fatti e delle storie e questo matrimonio tra Progetto Policoro Libera e tante altre cose lo racconteremo subito dopo la pubblicità anche questo è necessario saldatura tra cielo e terra perfetta ma che meraviglia ma che meraviglia dovevamo raccontare aspettiamo la passa esattamente assolutamente ma che meraviglia cielo e terra si saldano sempre i conti pareggiano e beh tocca a noi tocca a noi tocca a noi crederci impegnarci ma scusate abbiamo solo questa vita qua giù per amare per amarci per impegnarci per portare il nostro piccolo contributo al cambiamento e lì è un segno di concretezza di speranza un'opportunità la meraviglia di questa chiesa di questo parroco che dice alle famiglie mettiamoci tutti insieme ma è una meraviglia che dimostra che è possibile dopodiché noi dobbiamo chiedere ancora una volta che di dovere che si creano le condizioni perché si possa che ognuno faccia la propria parte insomma perché la dimostrazione che è possibile viene proprio se si mettono in grado questa meraviglia di ragazzi di poter mettersi in gioco ecco allora che si possono avere dei segni di veramente di cambiamento di speranza è una meraviglia questo Policoro è stato una delle storie più belle della chiesa italiana veramente per costruire i percorsi che danno dignità alle persone perché senza lavoro una società muore senza lavoro una società muore si impoverisce c'è solitudine fragilità disperazione in tanta gente lavoro e questi ragazzi se lo sono inventato un parroco che è stato da fare una chiesa che si è mossa che va a bussare di casa in casa non ce lo dimenticiamo è una meraviglia una meraviglia ma devo dire quante belle esperienze nel nostro paese che dimostrano che è possibile Don Luigi ci sono stati degli incidenti di percorso in questi suoi 70 anni mi spiego incontri che non le hanno dato i risultati o meglio da cui si aspettava qualcosa che poi non è arrivato se vogliamo venire alla cronaca senza entrare in particolare anche alleanze intese come condivisione di progetti con per esempio forze politiche che poi dopo non hanno capito o perlomeno ad un certo punto non si sono comportate forse come si dovevano comportare insomma Don Luigi Ciotti che cosa deve dire al riguardo? allora due passaggi velocissimi il primo passaggio che faccio i miei limiti le mie fatiche i miei errori e nel cammino di 50 anni nel gruppo Abele e 20 anni di libera ebbè uno deve fermarsi riflettere guardarsi dentro perché non è sempre responsabilità degli altri a volte sono anche le nostre responsabilità le mie fragilità i miei limiti da una parte che cosa si rimprovera riguardo a questo? devo dire che ho imparato nella vita in questa vita che i dubbi sono più sani delle certezze e soprattutto che riconosce i propri limiti un segno di grande libertà di grande autenticità e che è noi che vince primo secondo io ho sempre cercato di collaborare con chiunque per raggiungere quell'obiettivo di giustizia che ha di percorsi di ricerca di verità con chiunque sempre la porta aperta a chiunque nella chiarezza dei ruoli e delle competenze e delle professionalità ognuno deve stare al tuo posto collaborazione anche con la politica con le varie forze politiche a cui tocca elaborare poi i sistemi legislativi per tratturre tutto questo devo dire da disponibilità con tutti sul piano dei contenuti della chiarezza ma che nessuno ci prenda per la giacchetta ci ugi ci strumentalizzi l'ultima vicenda a cui nella tua testa fai riferimento devo dire che nel Movimento 5 Stelle ci sono delle persone eccezionali ragazzi svegli intelligenti appassionati come in tutte le realtà ci sono anche qualcuno ma questo non deve dire che tutto un movimento qualcuno che ha altri giochi altri interessi sta dall'altra parte ma questi qualcuno non devono andare ad umiliare una battaglia per reddito di dignità che ha bisogno che tutte le forze si mettono insieme perché l'obiettivo è un problema di uguaglianza di diritti a fianco dei doveri di dignità di libertà di tutte le persone e quindi c'è qualcuno che ha giocato anche su questo perché quel movimento all'interno ci sono delle persone belle brave generose come le ho trovate in tante forze politiche e noi siamo disposti sempre a collaborare con chiunque perché tocca a loro poi tradurre i sistemi legislativi e questo ci tengo a dire sempre distinguere per non confondere collaborazione con chiunque su degli obiettivi precisi ma anche una spina al fianco se non vengono fatte le cose nell'interesse del bene comune e dico sempre quella stupenda definizione il massimo che definì Paolo VI della politica che la politica è la più alta ed esigente forma di carità perché il servizio per il bene comune e l'impegno politico deve appartenerci anche noi come associazioni come gruppi nel senso lato di un impegno per il bene comune per il benessere di tutti e occuparsi del benessere degli altri vuol dire occuparsi del proprio benessere allora in questo senso la collaborazione c'è chi scritto ha rotto l'iddiglio c'è mai stato nessun idiglio ci sono state delle forme di collaborazione su dei temi che ci devono coinvolgere tutti e che mi auguro tutte le forze si uniscono quando quel meccanismo legislativo deve servire per dare più dignità alle persone e la mia ferita la mia sofferenza è vedere che a volte subentrano altri giochi altri interessi il reddito di dignità non è l'invenzione di qualcuno parte dalla fatica delle persone c'è gente disperata gente che non sa dove sbattere la testa gente che vive una condizione e i tempi devono accorciarsi non può essere sempre tempi lunghi burocratici meccanismi che rattoppano una situazione mentre la gente non sa più dove sbattere la testa basta per piacere la politica il servizio per il bene e il comune ci sia uno scatto e mi auguro che tutte le forze ma tutte le forze sentino dentro Papa Francesco non la manda mai a dire in questo senso e quando ho detto economia assassina sono parole dure ma sono parole vere perché abbiamo bisogno che una politica non sia schiacciata solo in quel meccanismo ma che trovi la creatività la fantasia e quando si vuole abbiamo visto che è possibile e questi ragazzi hanno dimostrato che loro sono disposti a fare di tutto ma di tutto per avere una loro divinità una loro libertà non lasciamoli soli non prendiamoli in giro perché molti sono orfani di territorio molti giovani sono orfani di territorio perché non trovano quei riferimenti quegli spazi quelle opportunità la porto in un territorio ferito in un territorio dove purtroppo gli orfani iniziano a diventare un po' troppi e ci sono troppe madri e troppi padri che non hanno più i loro figli vi portano nella terra dei fuochi perché c'è qualcuno che ha qualcosa da dirle da Luigi da Luigi vengo qua come fai te ti prendo per mano ti do del tuo alla fine di questa un minuto ti devo chiedere una cosa questo tu sei un prete che hai aiutato tanto che hai amato però sei anche un prete che vive sotto scorta in un minuto ti posso chiedere che cos'è la tua vita sotto scorta se hai paura o no ho visto quattro persone meravigliose che ti accompagnano da diversi anni ma poi purtroppo ho dovuto aumentare mi sono posto molti dubbi molti interrogativi ma quando è stato intercettato che Tottorino ha dato di eliminarmi l'ha ripetuto due volte ci siamo chiesti continuiamo a impegnarci mettiamoci in gioco per continuare a seminare un po' di speranza per mettere insieme forze energie è a volte molto faticoso e non posso dimenticare che questi ragazzi fanno grandi sacrifici non posso dimenticare quando incontro delle mogli dei figli che i loro papà sono usciti alla mattina e non sono tornati la sera nell'adempimento per accompagnare delle persone a poter svolgere fino in fondo la propria responsabilità al proprio impegno mi sono posto tante domande rispetto a questo lo accetto nel momento in cui mi permette di costruire insieme a tanti altri tanti altri tanti altri dei percorsi chiedo a Dio che ci dia a tutti delle belle pedate le dolci pedate di Dio perché nessuno si sente mai a posto mai arrivato e lo chiedo tutti i giorni anche per chi mi accompagna con cui che divido i loro fetti condivido le loro famiglie condivido i loro figli condivido anche dei momenti di gioia come il matrimonio di qualcuno come il battesimo dei loro bambini come aver accompagnato anche magari delle persone loro care che se ne sono andate è diventato anche per me una sorta di parrocchia tutto questo solo grazie e auguri a Don Luigi Ciotti grazie per le cose che ci ha detto grazie per aver scelto anche noi per questa per questa lunga chiacchierata adesso Don Luigi lei ha nel cuore le dolomiti e noi vi portiamo in un altro posto incantato fatica e passione sono state le parole più usate da Luigi Ciotti c'è una grande passione anche dietro tutto questo guardate qua grazie di essere stato con noi grazie a tutti